Questo video riguarda i migliori 3 deumidificatori Argo. Il vincitore della qualità nel nostro deumidificatori Argo va all'Argo EU 15133. Pratiche ruote pluridirezionali a parziale scomparsa. Super silenzioso. Utilizzabile in qualsiasi ora della giornata. Dispositivo di controllo con segnalazione luminosa riempimento tannica. Serbatoio di raccolta condensa compresa facilitata. Sistema di sbrinamento automatico con segnalazione luminosa. Puoi trovare il miglior prezzo direttamente qui sotto nella descrizione del video. L'alternativa è il Argo Dry Nature. Design slim. Molto elegante finitura bianco puro, con top e pannello comandi silver tasti soft touch. Display a led. Flap motorizzato 17L, 24 ore. Superficie consigliata fino a 24 metri quadrati umidostato ad alta precisione, con umidità impostabile. Timer di accensione e spegnimento. Filtro dell'aria sull'aspirazione, rimovibile per la pulizia allarme tannica piena attacco rapido per lo scarico continuo della condensa funzionamento fino a basse temperature. Da 5 a 35 gradi Celsius sistema di sbrinamento automatico funzione memory. Riavvio automatico dopo un blackout, con mantenimento delle ultime impostazioni pratiche ruote pluridirezionali e maniglie per il trasporto refrigerante naturale, con zero impatto sul riscaldamento globale. Puoi trovare il miglior prezzo direttamente qui sotto nella descrizione del video. Il vincitore della performance premium nel deumidificatori Argo è il Argo Alice e il deumidificatore portatile dalle dimensioni contenute. Il top, azzurro Alice, ne attribuisce un aspetto etereo e puro. Permette di deumidificare spazi fino a 12 metri quadrati. Può funzionare in modalità continua o fino al raggiungimento dell'umidità ottimale, garantendo il giusto comfort in ambiente. Il piccolo dalle prestazioni adeguate. Design lineare e dimensione contenuta. Pannello di controllo molto intuitivo con LED. Funzionamento. Deumidifica fino a 11 L, giorni. Ideale per ambienti fino a 12 metri quadrati. Due modalità di funzionamento. Smart. Funziona fino al raggiungimento del. Livello di umidità ottimale, 40-60%. Continuous. Funziona in modo continuativo. Filtro dell'aria sull'aspirazione, staccabile per la. Pulizia. Allarme riempimento tanica. Attacco rapido per scarico continuo condensa. Se ti piace il video apprezzeremmo un pollice in su o anche un commento.